ciao a tutti cari amici bentrovati e buonasera con una nuova canalizzazione del pensiero con il nostro solito appuntamento serale allora come potete vedere ho già preparato questi due mazzetti quindi abbiamo un'altra canalizzazione con varianti la variante 1 con il simbolino viola e la variante 2 con il simbolino rosa allora io vi invito a scegliere ad istinto quindi chiudete gli occhi pensate intensamente alla persona di cui volete la canalizzazione e scegliete il mazzetto vi ricordo sempre che sono interattivi quindi mi raccomando non sono consulti privati quindi se volete contattarmi per un consulto privato lo potete fare a tarot tai tarot chiocciola gmail.com trovate la mail in descrizione se naturalmente non sapete come si scrive oppure nella copertina del canale youtube vi ricordo inoltre che questi video sono validi dal momento in cui vengono visti di conseguenza non hanno scadenza allora variante 1 quindi per coloro che hanno scelto la variante viola andiamo un po vedere questa persona cosa sente quali sono i suoi pensieri le sue emozioni qualcosa tra te e me si è rotto si è spezzato bruscamente so che ti ho colpito le spalle tu eri lì in difesa aspettavi me aspettavi una situazione diversa invece improvvisamente è crollato tutto è scoppiato tutto e io a un certo punto mi sono allontanato me ne sono andato perché non c'era più nulla da fare l'ambiente era completamente tossico intasato forse è arrivato per messaggio questo shock questa discussione accesa questa situazione davvero drammatica che ha portato la rottura di qualcosa la famiglia io ho una famiglia questa cosa ci ha portato alla distruzione il nostro rapporto si è interrotto per questo perché io ho delle responsabilità ho una vita ho una casa ho dei figli ho una situazione familiare da seguire una compagna una moglie e questo mi toglie tempo da te e io capisco che ti ferisca comprendo che per te sia uno shock il fatto che io non possa dedicarti del tempo che io non possa venire da te è una situazione che mi crea una stabilità importante mi sento incapace mi sento imbidico purtroppo all'interno della mia vita familiare ci sono alcuni problemi anche di tipo economico e io non posso farci nulla al momento cerco di equilibrare le situazioni di equilibrare il denaro e soprattutto lo ammetto che la situazione familiare è effettivamente una sola facciata per me io sto cercando di stare lì e di tenere tutto in piedi affinché le persone che mi guardano possono comunque giudicarmi positivamente affinché coloro che ho a fianco vicini parenti tutti coloro che mi conoscono e che sanno la mia vita possono pensare che la mia sia un'esistenza tutto sommato modello ma in realtà io faccio un passo alla volta sempre in bilico sempre così da un momento all'altro potrei cadere le cose devono cambiare io voglio un'evoluzione voglio che le cose vadano avanti si trasformino perché questa situazione di instabilità di confusione mi crea davvero ansia mi crea preoccupazioni ogni cosa a suo tempo ogni cosa arriva nel momento opportuno nel momento giusto e io mi mi sento in colpa mi sento in colpa per la mia famiglia mi sento in colpa perché so che forse la mia famiglia avrei dovuto portarla fino alla fine ma probabilmente non riuscirò a farlo perché noi evolviamo non stiamo mai fermi questo sentimento questa situazione che si è venuta a creare tra me e te alla fine discorsi non è altro che un'evoluzione personale però mi sento giudicato da te mi sento in colpa per la mia famiglia e a volte non so cosa fare allora mi chiudo e scappo mi nascondo dietro ad un d'erba in qualche modo vado avanti variante 1 e vi ringrazio per aver seguito ditemi se la stessa risonato con voi naturalmente commentatemi il video io vi ricordo che mi potete contattare a tarot taitarot chiacciola gmail.com se volete informazioni per un consulto privato naturalmente ci sono anche le canalizzazioni del pensiero io vi mando un abbraccio grossissimo vi invito a mettere un like ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico passo adesso alla variante numero 2 per coloro che hanno scelto la variante rosa simbolino qui lo metto qua spero li vediate perché non vedo la telecamera allora andiamo un po a vedere questa persona sono storte si ne un po vedere questa persona cosa sente cosa prova che cosa vi vuole dire io vi ricordo che se volete contattarmi per informazioni sui consulti lo potete fare a tarot taitarot chiacciola gmail.com la trovate in descrizione e se avete bisogno di alcuni approfondimenti ci sono varie opzioni di consulti tra cui anche le canalizzazioni tu sei la donna che desidero la persona che amo quella che mi dà la gioia di vivere che quando guardo negli occhi mi riempie di felicità sei la donna attraente che mi accende la passione e sei una donna piuttosto perspicace e io questo lo capisco ho capito subito che hai quell intuito particolare da donna sensibile sei una persona affettuosa dolce e sei la con le braccia aperte pronto pronta ad accogliermi io invece sono in ritardo temo di aver preso perso il treno temo di aver perso te probabilmente non è una cosa che dipende da me potrebbero esserci situazioni esterne che mi bloccano o potrei essere anche io il mio carattere la mia insicurezza fatto sta che qualcosa sta per arrivare ma non è il momento giusto e io ho paura di questo lasco di tempo perché tu sei la persona che io voglio e chissà dove sei chissà con chi sei cosa stai facendo e questo mi preoccupa perché ho paura di perderti ho paura di non trovarti più e sono molto geloso molto 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 geloso ti vedo con altre persone ho paura che tu stia con altre persone e improvvisamente mi sento avvolto da questa gelosia veramente fastidiosa perché ti desidero perché voglio che tu sia mia ma non ti ho ancora e che frustrazione sento come mi arrabbio ma non ti mostro niente faccio finta di nulla faccio finta che non sia così e me ne resto in disparte solo perché probabilmente non posso venire da te sono bloccato mi sento triste mi sento veramente in solitudine non ho modo di uscire di cambiare direzione e allora mi chiudo mi intristisco divento freddo mi sento al freddo e spero che questa corazza in qualche modo mi difenda ma in me sarà solo un'illusione perché quello che io desidero realmente è l'amore è venire da te abbracciarti stringerti tra le mie braccia in questa mia solitudine io fantastico su di te perché ho un sentimento talmente profondo e talmente forte che spero un giorno riuscirò a dimostrartelo va bene variante 2 io vi ringrazio vi invito a mettere un like ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina vi do un abbraccio grande vi ricordo che se mi volete contattare per informazioni per approfondimenti lo potete fare alla mail tarot tai tarot chiocciolagmail.com la trovate sotto in descrizione io vi mando un abbraccione grande vi auguro una buona serata